Vedendo queste immagini sono sicuro che abbiate pensato che si trattasse dell'ennesimo insetto caduto vittima del fungo parassita Ophiocordyceps unilateralis. Per chi non avesse mai sentito questo nome intendo quello di Delastovas. E invece no, qui non c'entra nessun parassita. Si tratta di Carogenes auricoma, un bizzarro insetto a cui crescono queste strutture particolari molto simili a quelle che spuntano dagli insetti parassitati dal noto fungo parassita. Ma quindi cosa sono quei cosi? I filamenti di cera cuticolare di cui non si sa di preciso la funzione potrebbero essere utili per tenere alla larga le formiche, cosa che effettivamente è stata osservata o per bloccare i parassiti ed evitare che raggiungano i tessuti dell'insetto. Ma in ogni caso, qualunque sia la loro funzione, ma quanto sono particolari queste strutture?